ciao a tutti ragazzi siamo sempre io questo amico perle 95 vi parlo il canale il training card game ciao a tutti ragazzi siamo qui con un nuovo video un nuovo TCBM e ricominciamo con i TCBM come dovete vedere oggi è arrivato il TCBM da Darker9.8 ma abbiamo altri due TCBM da Psycho Blizzard questo è un FCBM caricherò nel prossimo video e questo qua è da vabbè un altro TCBM che poi farà un video ma prima quello più importante è veramente quello da Darker9.8 TCBM fantastico spero vivamente i box di SpiralForce e Thunderknackle vi siano piaciuti vi faccio ancora vedere questa fantastica shiny oh mio dio bellissima allora lasciamo qua allora TCBM da Darker9.8 e ci viene delle cose ragazzi mamma mia mamma mia mi scrive un bigliettino allora grazie di questo Epic TCBM ci vediamo su code pronto per farti il culo ti ho messo delle ex di VB Darker9.8 se si mo' mi fa il culo è arrivato ha 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 che sfondo vabbè comunque ci invia anche questo Wobbuffet pupazzetto lo mette a fuoco vabbè lo mettiamo qua Wobbuffet vicino a Victini vi fa compagnia allora Epic TCBM abbiamo ben due cristalline due full art e due extra veramente molto belle ma passiamo agli extra che sono prima questo aspettate ragazzi non ve li voglio far vedere ah il primo extra è questo Heracross di 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 fantastico non scambio anche se ce l'ho doppio comunque è sempre una fantastica arte non vorrei scambiare secondo scambio è questo Venusaur set base non rovinato quindi mi serve e non scambio nemmeno questo anche se ce l'ho doppione l'altro è poco poco usurato comunque passiamo alle carte più belle ovvero questo golem cristallino veramente fantastico che non scambio mettiamo qua e poi questo selby cristallino ragazzi questa è veramente una carta favolosa che non scambierò mai è veramente una carta fantastica ti ringrazio moltissimo grazie 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 poi 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 abbiamo ancora più belle la prima ex full art che è questo oh oh ex full art ragazzi mi mancava veramente fantastico non c'è vabbè questa è in inglese comunque non c'è proprio confronto con le giapponesi ma questa mi va benissimo bellissima grazie tantissimo ma la più bella la più bella di tutti questo è il fantastico mio ex full art ragazzi carta di poco straordinaria che lo scambio ecco questa è anche questa in inglese veramente epica e niente dal 9 8 io ti ringrazio moltissimo per queste fantastiche carte niente da 545 è tutto mi ringrazio per la visione di questo video e caricherò altri FCBM bellissimi come questo niente alla 545 è tutto e ci vediamo al prossimo